Ok, allora innanzitutto benvenuti, ben arrivati tutti. Sono contento anche di vedervi numerosi per questa serata di dialogo che nasce per la presentazione di questa rivista, pubblicata dalla fionda, realtà con cui collaboriamo sia come indispensabile, sia come sottosopra, che sono le realtà che hanno collaborato per organizzare questo evento. Questa rivista è una rivista che ospita numerosi contributi importanti e nasce dal tentativo di riflettere appunto sull'attuale conflitto in Ucraina e con i nostri ospiti che appunto presento subito abbiamo Alessandro Colombo che insegna relazioni internazionali all'Università degli Studi di Milano e Marcello Spanò che è ricercatore di economia politica all'Università dell'Insubria. Quindi volevo iniziare con il professor Colombo. Diciamo che come sapete, come sappiamo, l'attuale conflitto che ormai va avanti da un anno, apre tematiche molto ampie e molto vaste. Io vorrei concentrarmi con te, siamo detti di darci del tu, su questo aspetto che mi è piaciuto molto, nel senso che l'attuale conflitto, come scrivi, segna diciamo una rottura, una crisi di quello che era l'ordine che si è costruito negli ultimi decenni, che era l'ordine diciamo liberale della globalizzazione. Un ordine che in qualche modo sembrava funzionare e che lentamente scrivi appunto è entrato in crisi già prima della guerra in Ucraina. E tu dici appunto che in qualche modo le categorie con cui ci siamo abituati a pensare anche l'ordine mondiale stanno entrando fortemente in crisi. Con appunto, vediamo, l'emersione di altre potenze, la Russia chiaramente, ma anche la Cina, i paesi BRICS, che è un tema su cui torneremo anche con Marcello da un punto di vista economico. Quindi ti vorrei chiedere, Alessandro, so che è un tema molto vasto, però di aiutarci un pochino a capire meglio appunto questa rottura, questa crisi che facciamo un po' fatica a confessarci, no? Io ho dovuto, insomma, dobbiamo sentirla magari da un fisico come Rovelli, che ha detto che la narrazione che ci stiamo facendo, insomma, riguarda alla fine una piccola parte del globo, oppure da Santoro, diciamo. Però ecco, aiutaci meglio a capire questo aspetto e quali categorie invece ci possono aiutare a capire quello che sta accadendo. Oddio, allora grazie intanto dell'invito, ma io credo che dobbiamo partire da un riconoscimento che in qualche misura è trascurato anche nell'informazione su questa guerra. Questa guerra non è naturalmente la causa della crisi dell'ordine internazionale. Questa guerra è una delle manifestazioni, purtroppo non sarà l'ultima, di una crisi dell'ordine internazionale che durava da almeno 15-20 anni, perché la parabola dell'ordine internazionale post-bipolare, post-novecentesco, liberale, come lo vogliamo definire, è una parabola che ha chiaramente un punto di svolta, grosso modo, alla metà del primo decennio del XXI secolo. L'ordine liberale regge in qualche misura dall'inizio degli anni 90 fino a quel momento e poi ci sono due grandi shock che cambiano completamente il contesto. Il primo shock è il fallimento della guerra in Iraq, che cambia completamente il rapporto degli Stati Uniti con la loro funzione hegemonica e il secondo shock è naturalmente la grande crisi economico-finanziaria del 2007-2008. Queste due cose insieme hanno un effetto distruttivo sull'ordine liberale, hanno un effetto distruttivo sulla politica estera degli Stati Uniti, cambia tutto nella politica estera americana da quel momento in poi. La guerra in Ucraina, che oggi si tende a presentare come un elemento dirompente, cioè qualcosa che spacca la storia, in realtà è una manifestazione di questa crisi, che era una crisi evidentissima, della quale tra l'altro si parlava e si scriveva da almeno 10 o 15 anni. Ed è una guerra, oltretutto, che attiva alcuni degli elementi di quella crisi. Io non voglio dilungarmi perché preferisco che ogni risposta sia relativamente breve, ma ne accenno soltanto uno. Noi siamo stati tentati in questi mesi di vedere nella grande violazione, perché di questo si tratta, non c'è alcun dubbio, nella grande violazione del diritto internazionale operata dalla Federazione Russa, anche in questo caso una frattura dell'ordinamento politico-giuridico. In realtà purtroppo non è così, perché un processo di rilegittimazione su rettizia dell'uso della forza era avvenuto da almeno 30 anni. Le regole restrittive della Carta delle Nazioni Unite sono state fatte letteralmente a pezzi negli ultimi 30 anni. Cito almeno due grandi correnti di erosione. La prima è quella delle cosiddette guerre umanitarie degli anni 90. Le guerre umanitarie avevano ampiamente superato e sfacciatamente superato i limiti della Carta delle Nazioni Unite. La seconda grande corrente è quella della guerra globale al terrore, all'interno della quale si riuscì a legittimare anche l'aggressione all'Iraq nel 2003. Da questo lato, e questa è l'ultima cosa che dico prima di cederti nuovamente la parola, credo che sia molto interessante il modo in cui la stampa, soprattutto quella italiana, devo dire la stampa americana su questo è stata molto più onesta paradossalmente della nostra, ma il modo in cui la stampa italiana ha affrontato il ventesimo anniversario della guerra all'Iraq nel 2003. Perché la guerra all'Iraq del 2003 è stata una violazione clamorosa, anche in quel caso dell'ordinamento politico, giuridico e internazionale, che ha aperto lo spazio per altre violazioni. Sarebbe interessante, magari lo faremo dopo, andare a riassumere per esempio tutte le giustificazioni che Vladimir Putin, in modo impudente, questo è ovvio, ma che Vladimir Putin ha dato della sua guerra all'Ucraina. Allora queste giustificazioni in realtà richiamano un ventaglio di giustificazioni che negli ultimi 30 anni non sono già state offerte anche da altri attori. È una specie di riassunto paradossale del modo in cui, purtroppo andrebbe detto, hanno parlato anche altri attori prima di lui. Ok, ti intervello ancora un attimo. Quali conseguenze già stiamo vedendo? Tu parli di una militarizzazione del linguaggio a cui ci stiamo abituando. Non ce ne rendiamo più conto per ormai parlare di continuare a inviare armi, armi anche sempre più pesanti, urani impoverito, sta diventando la normalità. Quindi già questa è una conseguenza, una novità. E poi parli anche di un cambiamento, nel senso che ci eravamo abituati a una sorta di globalizzazione, stiamo ritornando invece a un'autonomia e anche una difesa territoriale che cambia un po' l'ordine. Sì, allora, questa guerra, dicevo, è una manifestazione della crisi dell'ordine, ma questo non significa che questa guerra non sia destinata ad aggravare la crisi dell'ordine internazionale. Noi vediamo già alcune linee di tendenza, alcune linee di tendenza che si stanno già verificando. Io riassumerei in almeno tre tendenze macroscopiche. La prima è quella che hai accennato. C'è una tendenza alla rimilitarizzazione delle relazioni internazionali, non tanto e non solo del linguaggio, perché la militarizzazione del linguaggio era già avvenuta. Noi ci siamo abituati da diversi anni a spendere continuamente, per esempio, la parola guerra, anche dove una guerra in senso letterale non è in corso. Pensiamo a come abbiamo rappresentato la pandemia. La rimilitarizzazione delle relazioni internazionali significa qualche cosa di più specifico, cioè significa due cose che stanno avvenendo, che in realtà avevano cominciato a avvenire anche in questo caso prima della guerra. Da un lato una tendenza generalizzata al riarmo, una tendenza generalizzata al riarmo che era già in atto, ma che dopo la guerra in Ucraina ha investito la stessa Europa, che era l'unico continente che in qualche misura era stato risparmiato da questa tendenza. L'altra tendenza che è l'altro lato della militarizzazione è il varo e il rilancio delle vecchie alleanze militari. Penso al caso della Nato oppure penso al varo di nuove alleanze militari nell'Indo-Pacifico. Quindi questa è una prima tendenza. La seconda tendenza, la seconda evoluzione è una tendenza molto forte e molto preoccupante, a maggior ragione perché si lega a quella della militarizzazione, una tendenza crescente alla bipolarizzazione del sistema internazionale. Una bipolarizzazione che vede l'intreccio tra quello che sta avvenendo in Europa e quello che sta avvenendo nell'Indo-Pacifico e nella competizione tra Stati Uniti e Cina, le due competizioni sono state completamente fuse, anzi hanno trovato soprattutto nell'amministrazione Biden, molto più nell'amministrazione Biden che nell'amministrazione Trump, una grande formula retorico discursiva, cioè questa fantasmagoria dello scontro tra democrazia e autocrazia. E poi c'è una terza conseguenza, che poi è probabilmente una conseguenza della quale parlerà molto più a fondo Marcello, che non credo alla deglobalizzazione, ma una trasformazione della globalizzazione economica in senso politico. Io mi limito a un unico elemento, che è un elemento anche in questo caso che ha a che fare con il linguaggio. Se noi andiamo a guardare i grandi documenti usciti negli ultimi mesi, documenti dell'Unione Europea, della Nato e degli Stati Uniti, sono usciti quasi nelle stesse settimane, la National Security Strategy americana, il nuovo concetto strategico della Nato e la bussola strategica dell'Unione Europea. In questi documenti noi abbiamo una rappresentazione della globalizzazione che è esattamente rovesciata rispetto alla rappresentazione alla quale ci eravamo abituati negli anni 90 e anche negli anni immediatamente successivi. C'è una formula in modo particolare che ritorna a questo punto anche nella retorica politica, la cito prima in inglese e poi in italiano, la formula è weaponization of economic interdependence, cioè la trasformazione dell'interdipendenza economica in un'arma. Questo è esattamente l'opposto del modo in cui abbiamo rappresentato l'interdipendenza economica per decenni come una sorta di motore di sviluppo e anche di fuoriuscita dalla povertà. È inutile dire che una volta che rappresentiamo l'interdipendenza come un'arma la risposta non può che essere l'autonomia, che è l'altra parola cardine del lessico che impieghiamo da alcuni mesi a questa parte, che si tratti di autonomia strategica, di autonomia sanitaria, di autonomia energetica, ma l'autonomia è direi l'altro lato di questa ridefinizione e rirrappresentazione della globalizzazione. Questo aspetto è molto interessante, interpello te Marcello, perché nel tuo contributo insisti su questo punto da un punto di vista economico, cioè dagli accordi di Bretton Woods, come dire, gli ultimi 40 anni, 50 anni, il sistema internazionale si è radicato e fondato sul dollaro e uno degli aspetti di questa guerra che sottolinei è come stia entrando in crisi questo ordine, come dicevamo, con l'emersione dei paesi BRICS che tentano di svincolarsi da questo sistema dollaro centrico. Anche qui so che è una domanda enorme, però aiutaci un po' a capire questo aspetto, come diceva il professor Colombo, molto importante. Questa della trasformazione in corso nella, quella che una volta si chiamava serenamente globalizzazione, adesso diventa un po' più controversa la questione. Dunque sì, allora facciamo un passo indietro in un momento storico importante che è quello in cui si passa, come dicevi tu prima, da un'organizzazione monetaria internazionale sancitta dagli accordi di Bretton Woods a una riorganizzazione, qualcuno la chiama anarchia, qualcuno la chiama disordine monetario internazionale, però in realtà è comunque un'organizzazione fondata, centrata sul sistema finanziario americano difeso a spada tratta appunto dalla superpotenza occidentale, quindi dagli Stati Uniti. Questo sistema finanziario a partire dalla moneta che è stata imposta progressivamente come moneta internazionale, quindi di riserva, come unità di conto e come mezzo di pagamento, che sono le tre funzioni della moneta, unità di conto, riserva di valore e mezzo di pagamento, è stata imposta su scala internazionale. Allo stesso tempo il sistema creditizio, quindi bancario e finanziario statunitense è stato collocato al centro di tutto il circuito di produzione, circolazione e riflusso della moneta. La moneta internazionale veniva prodotta dal sistema finanziario statunitense, fatta circolare intorno al mondo, utilizzata o per le spese in dollari, perché nel mercato internazionale per comprare e vendere merci in generale, o petrolio in particolare, quindi le risorse naturali, ma in generale le merci erano tutte denominate in dollari, quindi il dollaro fungeva proprio da unità di conto delle merci internazionali, quindi un paese che aveva bisogno di importare petrolio doveva in qualche modo pagarlo in dollari, questo era un po' il senso. E i dollari chi è che li producevano? Li produceva la Cina, quindi questo è un errore che spesso si fa, a cui io faccio cenno in questo testo. In realtà, qui apro una parentesi, gli Stati Uniti che vengono spesso presentati come grande debitore internazionale, dal punto di vista contabile è corretto dire che sono un paese debitore, debitore netto, però io porrei piuttosto l'accento sulla centralità del loro credito lordo più che del debito netto, cioè loro sono un grande paese creditore lordo su scala internazionale, nel senso che sono coloro che forniscono di dollari tutti coloro che hanno bisogno di dollari. Il Fondo Monetario Internazionale? Proprio anche il sistema finanziario statunitense, poi il Fondo Monetario Internazionale è, come diceva Will Hutton, il braccio armato del tesoro statunitense, che serve a garantire la solvibilità del debitore degli Stati Uniti intorno al mondo nel caso di crisi di insolvenza, nel caso in cui un debitore non abbia soldi per pagare i propri debiti, allora interviene il Fondo Monetario Internazionale come un'ambulanza che dà prestiti, come è successo poi in piccola scala anche nella zona euro con la crisi greca per esempio, arriva l'ambulanza, dà prestiti al debitore, il debitore con questi prestiti cosa fa? Non è che finanzia le proprie spese, il recupero dello stato di povertà, disoccupazione eccetera, paga indietro i debiti al creditore, quindi praticamente il soccorso è un soccorso del creditore di fronte al rischio che il debitore non paghi più il suo debito. Quindi il Fondo Monetario Internazionale funge e anche la Banca Mondiale come braccio armato ed è una cosa progressiva questa, perché è stato creato con una funzione un po' diversa, poi progressivamente diventa veramente il picchiatore da parte degli Stati Uniti dei paesi debitori. Quindi è importante il ruolo degli Stati Uniti, enfatizzare il ruolo degli Stati Uniti come creditore, come creditore lordo appunto, che poi sia anche debitore netto. Secondo me è indubbiamente vero dal punto di vista contabile, però è come dire che una banca centrale è debitrice di chiunque detenga la sua moneta, quindi c'è debito e debito, attenzione, perché la banca centrale emette la moneta che è una passività. Gli Stati Uniti che collocano il loro sistema creditizio al centro del circuito monetario internazionale, loro emettono dollari oppure treasury bills che sono appunto gli immediati sostituti dei dollari, i titoli del tesoro statunitense, che vengono detenuti come riserve dalle banche centrali e queste sono l'equivalente di una riserva di moneta internazionale. Quindi loro si comportano esattamente, su scala internazionale, si comportano come si comporta una banca centrale, tutto sommato, cioè loro forniscono quella moneta che è richiesta da altri paesi, perché richiesta appunto, dicevo, o per pagare le merci che devono essere pagate in dollari, le merci che non sono a disposizione nei singoli paesi che richiedono dollari, oppure come riserva di valore, quindi mezzo di pagamento e riserva di valore. Riserva di valore che tipicamente genera una domanda di moneta da parte delle banche centrali, per esempio la banca centrale cinese, che è il cosiddetto grande creditore netto degli Stati Uniti, ha accumulato nel tempo una quantità enorme di treasury bills, di titoli del debito pubblico americano. Però, ripeto, questo non vuole dire che la Cina ha finanziato le spese degli Stati Uniti. Le spese degli Stati Uniti sono state finanziate dalla Federal Reserve, perché è la Federal Reserve che ha emesso la moneta per poter fare queste spese. I cinesi per acquisire dollari hanno dovuto vendere le merci con cui si sono comprati i dollari, non li hanno emessi loro, quindi tecnicamente non è stato un atto di creazione di un finanziamento, ma è stata l'appropriazione dei dollari di cui avevano bisogno per costruirsi le loro riserve e per provvedere alle spese. Quindi questo è più o meno come era e come è ancora in realtà organizzato il sistema del credito internazionale. Quindi centralità del sistema finanziario statunitense. Secondo punto, progressiva estensione del credito ai paesi in via di sviluppo, alle economie emergenti, anche in modo aggressivo. Non so se voi avete letto il libro che si chiama Confessione di un sicario dell'economia, che è veramente Perkins che è illuminante proprio sui metodi, ammesso che sia vero, ma secondo me è vera questa ricostruzione che fa, perché lui era un diretto testimone di come questo sicario appunto era mandato in giro per il mondo a convincere gli stati dei paesi emergenti, eccetera, a chiedere a prestito dei soldi dalle banche statunitensi per fare delle spese di cui in realtà avevano ben poco bisogno o comunque praticamente con minacce più o meno velate dicevano vabbè tu hai bisogno di fare questi investimenti, questa spesa, indebitati in dollari e poi magari vai a finanziare le imprese statunitensi che vengono a fare le estrazioni di risorse naturali costruire quello che era, non solo, in Indonesia, dappertutto, no? Ok, quindi, allora, politica del credito aggressiva, quindi ancora una volta io sottolineerei il ruolo di creditore del sistema finanziario statunitense più che di debitore netto. Terzo elemento che poi ha portato alla situazione di oggi è che questa platea di debitori è stata anche cercata anche aggressivamente anche all'interno del blocco dei paesi occidentali e degli Stati Uniti, cioè debitori erano anche le famiglie statunitensi che hanno aumentato in modo impressionante i debiti nel corso degli anni 80 e 90 e 2000 fino alla crisi del 2007-2008, cosa che di solito era poco osservata dagli economisti perché gli economisti mainstream di solito pensano che vabbè se aumenta il debito dall'altro lato della bilancia vuol dire che aumenta anche il credito, siccome gli economisti pensano sempre che l'analisi economica sia semplificabile con un agente rappresentativo, c'è un agente medio dell'economia, quindi in media nessuno era indebitato e nessuno era creditore, perché se c'erano le famiglie indebitate, c'erano le banche creditrici, questo gonfiarsi dei debiti era compensato da un gonfiarsi dei crediti, quindi in media non stava succedendo niente, infatti poi è crollato tutto nel 2007-2008. Quindi questo terzo elemento ha generato cosa? Ha generato un problema di stabilità interna, cioè mentre prima le crisi erano soprattutto crisi del debito dei paesi del terzo mondo, poi col passare del tempo le crisi, a partire dal 1987 con la prima crisi dopo la deregulation di Reagan e Thatcher, ma poi anche appunto quella del 2000-2001 e poi anche quella del 2007-2008 e poi volendo possiamo aggiungerci anche quella di oggi che non sappiamo bene di che portata sia, però hanno rivelato che era un sistema che mentre costruiva una montagna di debiti crescenti allo stesso tempo, anche all'interno ripeto del blocco occidentale, allo stesso tempo generava instabilità e generava fragilità. quindi allo stesso tempo il problema era dal punto di vista degli Stati Uniti preservare il ruolo centrale del sistema creditizio e finanziario con tutti i mezzi possibili immaginabili, in particolare con un intervento delle banche centrali che hanno fatto di tutto per salvare il sistema creditizio da un crollo, in parte nell'interesse generale, si può anche capire perché se crolla un sistema bancario in un paese sostanzialmente si porta a fondo, come ben sappiamo, anche l'economia reale. Però c'era anche un interesse proprio di, se vogliamo, anche geopolitico, strategico, quello di tenere saldo al centro il sistema finanziario statunitense che diventava, che doveva restare regista dell'intera economia. Qual è la novità che apre il conflitto attuale rispetto a questo scenario? Allora, rispetto a questo scenario direi, anch'io sono d'accordo nel dire che la novità non è tanto la guerra in Ucraina, la guerra in Ucraina è una conseguenza di uno scenario che è cambiato. Prima abbiamo messo in evidenza le ragioni della guerra in Iraq come elemento fondamentale. Io aggiungerei anche un altro aspetto, ovviamente la crisi del 2007-2008, che ha rivelato delle fragilità pesanti, ha costretto le banche centrali a intervenire in modo massiccio, con iniezioni di liquidità, con quantitative easing anche molto abbondanti, preservando i valori degli stock finanziari e sacrificando invece il reddito, quindi preservando il valore della ricchezza e sacrificando il reddito, nel senso che i tassi di interesse si sono abbassati, quindi il reddito dei creditori si è abbassato pure, però in cambio hanno avuto una salvaguardia del loro valore della ricchezza e poi secondo me l'elemento che ha generato un cambiamento e potrebbe aver portato effettivamente a questa crisi, anche alla guerra, è stato un elemento politico. Non è avvenuto da un giorno all'altro, però intorno al 2015 la banca centrale cinese ha smesso o ridotto notevolmente l'accumulazione di dollari, di treasury bills, nel proprio stato patrimoniale, come riserve. Quindi questa riduzione delle riserve a disposizione della banca centrale cinese, delle riserve in dollari, in treasury bills, ha sostanzialmente fatto creato uno scossone, una specie di terremoto finanziario perché ha liberato ha liberato una massa decisamente importante di dollari che non erano più tenuti appunto da parte, stoccati dalla banca centrale, ma dovevano essere in qualche modo impiegati in qualche altro modo. Uno dei modi è stato appunto anche quella di far ricircolare, ricreare, per esempio il credito cinese in Africa è stato un credito in dollari. La Cina non esporta yuan, almeno fino adesso non li ha esportati, poi adesso potrebbe cominciare. Quindi ha concesso tanti crediti in dollari proprio perché c'era una massa di dollari che era tornata in circolazione dopo che la banca centrale si è svuotata le sue scorte. Questa massa di dollari è stata diciamo investita da istituzioni private dei paesi tipo Taiwan, Cina eccetera, quindi società assicurative, banche di investimento e questa cosa ha dato molto fastidio agli Stati Uniti. ha dato molto fastidio perché finché era la banca centrale cinese ad accumulare Treasury Bill non metteva tanto a rischio la tenuta del sistema delle imprese americane. Quando invece sono le società private che devono investire soldi, dollari, molto spesso vanno a dare fastidio proprio per esempio alle imprese americane, comprano quote di capitale, fanno credito in dollari indesiderato in generale. Quindi questa cosa qua ha generato una reazione che poi abbiamo visto prima con Trump e adesso con Biden perché tutto sommato con un cambio di retorica, tutto sommato però la politica di Biden è in sostanziale continuità da questo punto di vista con quella di Trump, hanno cominciato a fare quella che è una ritorsione di tipo protezionistico. Cioè anziché essere paladini della globalizzazione hanno cominciato a essere, a mettersi in difesa, a costruire un muro in cui includono gli amici l'Alleanza Atlantica appunto e anzi per far sì che questo muro sia solido hanno cercato di rompere in tutti modi qualsiasi rapporto che i paesi amici, in particolare l'Europa, poteva avere con Cina, la via della seta e con la Russia, la fornitura di gas. Allora quale metodo migliore di una bella guerra in Iraq per creare questa barricata? L'Occidente da un lato, la Russia, la Cina e i paesi non appartenenti all'Alleanza Atlantica dall'altro. Così, quindi secondo me c'è stata, cioè questa crisi, questa guerra è in realtà figlia di questa ritorsione protezionistica degli Stati Uniti che a sua volta è generata da un cambiamento politico, cioè dalla scelta della Cina di smarcarsi progressivamente dalla dipendenza dal dollaro e con la Cina anche altri paesi. Direi che ho parlato anche troppo perché... Hai fatto una domanda? Lo so, lo so. Da filosofo tendo a interrogare l'essere in generale, come dice Aristotele. Prometti di essere più breve alla prossima. Entriamo, diciamo, più nel... chiudiamo più il campo e lo zoom. Faccio un po' la parte, diciamo, anche della persona qualunque, no? Perché appena uno dice, no, magari, attenzione, però non sono così d'accordo, diciamo, a continuare a inviare armi, a proseguire in questa politica, immediatamente, no, viene detto, però tu che cosa faresti, no? E quindi ecco, volevo chiederti, Alessandro, cioè quale invece potrebbe essere realisticamente una posizione alternativa credibile a quella a cui invece stiamo assistendo, no? Cioè... Faccio fatica a rispondere, faccio fatica a rispondere tanto per cominciare perché la mia sensazione dell'elemento di massima preoccupazione, non soltanto per me ma per tutti, la mia sensazione è che in questo momento tutte le parti coinvolte nel conflitto non possono fare un passo indietro, perché hanno messo in campo la propria reputazione, il proprio prestigio e quindi si sono, potremmo dire, auto intrappolate, questo è uno degli elementi di massima preoccupazione di questa guerra. La seconda ragione è che in realtà io sposterei la domanda, perché noi ci continuiamo a porre la domanda se sia opportuno oppure no continuare a armare l'Ucraina, ma in realtà la domanda che credo e spero che ci si ponga anche a livello politico, diplomatico, militare, se lo si ponga in Europa, se lo si ponga negli Stati Uniti è qual è l'obiettivo politico di questa guerra? Cioè quale vogliamo che sia l'obiettivo politico di questa guerra? Perché l'obiettivo politico di questa guerra non può essere semplicemente quello di sanzionare il violatore e non può meno che mai essere quello di distruggerlo sul terreno giuridico morale. Allora il problema che mi pongo è il problema che si sarebbe posto Clausewitz, dato che la guerra è uno strumento della politica, qual è l'obiettivo politico ragionevole che ci stiamo prefiggendo? L'obiettivo politico ragionevole è quello di ridimensionare la Russia, è quello di distruggere la Russia, è quello di riaprire comunque presto o tardi anche la possibilità di una ripresa dei rapporti tra Russia e paesi europei. Ecco su questo io ho il sospetto che per esempio dietro la retorica della coesione dei paesi europei e degli Stati Uniti non ci siano le stesse visioni in Europa. Io penso che diversi paesi europei e gli Stati Uniti non rispondano nello stesso modo a questa domanda e questa è la domanda cruciale. Detto in un altro modo, fino a che punto vogliamo vincere? Allora posto che chiunque fa una guerra o chiunque finanzia una guerra o chiunque arma una guerra vuole vincere. Qual è il punto che noi vogliamo raggiungere? Per tornare a Clausewitz uso sempre questo richiamo da alcuni mesi a questa parte perché è un richiamo che paradossalmente fa di Clausewitz un uomo molto più pacifico di tanti che sostengono di avere una cultura pacifista. Clausewitz diceva in ogni guerra c'è un punto culminante della vittoria. Il punto culminante della vittoria è il punto oltre il quale la vittoria diventa politicamente distruttiva. Noi possiamo vincere sul terreno militare ma se superiamo quel punto noi rischiamo di pregiudicare tutto quello che abbiamo fatto. Un caso eclatante di punto culminante superato è quello che gli Stati Uniti hanno fatto in Iraq nel 2003. Gli Stati Uniti in Iraq nel 2003 non si sono fermati al momento giusto. Allora la domanda che ci dobbiamo porre più ancora che se continuare a dare armi e quale tipo di armi è qual è se c'è un punto culminante della vittoria. In ogni guerra ci deve essere un punto culminante della vittoria. La guerra non può essere concepita come temo ahimè anche leggendo certi miei colleghi. La guerra non è un provvedimento morale su vasta scala. La guerra è inevitabilmente subordinata. Questo quesito e questo quesito va posto e questo quesito va discusso. E mi sembra che su questo invece ci sia da un lato una reticenza che in parte comprendo ma dall'altro lato temo anche una grande disattenzione. L'impressione che mi sono fatto e mi assumo la responsabilità di quello che dico è che sotto la crosta diciamo della narrazione dominante quello che stia accadendo sia in realtà una lotta che possiamo chiamare egemonica che sarà destinata a durare molto probabilmente nei prossimi decenni. Cioè questo diciamo primato egemonico degli Stati Uniti lentamente ha visto come dire una risposta sia della Russia ma anche della Cina. Per cui dal mio punto di vista vanno prese seriamente in considerazione neanche le parole di Putin. Qualche modo come una difesa come diceva Klauselitz. Cioè l'aggressore l'aggredito. Questa guerra è quell'altro elemento che la rende molto pericolosa. È che dal punto di vista dello scenario internazionale complessivo questa guerra è un anacronismo. Questa guerra è anche dal punto di vista strategico qualche cosa di, so di dire una cosa che per la nostra sensibilità umanitaria sembra insostenibile, ma è qualcosa di assolutamente secondario. Perché gli Stati Uniti non sono preoccupati della Federazione Russa. Gli Stati Uniti sono perfettamente consapevoli che la Federazione Russa non è un competitore. Ma gli Stati Uniti erano consapevoli da anni che la Federazione Russa non è un competitore. Gli Stati Uniti sono interessati puramente e semplicemente alla competizione con la Cina. E questo è anche, va detto, l'azzardo che sta facendo Vladimir Putin. Perché Vladimir Putin pensa che questo sia il suo fondamentale vantaggio. E cioè il fatto che gli Stati Uniti e i paesi europei, ma soprattutto gli Stati Uniti, non reggeranno a lungo questo sostegno. Perché sia l'opinione pubblica americana, sia gli studiosi americani, sia l'establish militare americano, sia larghissima parte del mondo politico americano, hanno fretta di tornare a investire le proprie risorse politiche, economiche, militari e reputazionali nell'Indo-Pacifico. Credo che questa sia anche una ragione di preoccupazione per i prossimi mesi. L'Ucraina sa di avere poco tempo. Così come Vladimir Putin conta di averne molto. L'Ucraina è costretta a andare all'offensiva. L'Ucraina andrà all'offensiva nelle prossime settimane perché deve chiudere la partita entro il prossimo inverno. Se non riuscirà a chiudere la partita entro il prossimo inverno, io credo che molto difficilmente gli Stati Uniti potranno, in piena campagna elettorale, permettersi un sostegno di questa portata all'Ucraina anche nei mesi successivi. E questo che rende ancora più preoccupante e anche più folle dal mio punto di vista, dal punto di vista della razionalità strategica questa guerra. Questa guerra non centra con l'evoluzione complessiva del sistema internazionale. Leggevo recentemente un articolo, credo su Foreign Affairs, che è molto rappresentativo delle preoccupazioni americane. In questo articolo si diceva stiamo attenti a non fare dell'Ucraina il nuovo Afghanistan, cioè un luogo nel quale noi buttiamo una quantità infinita di risorse, perdendo di vista qual è il nostro interesse fondamentale. In Afghanistan abbiamo perso anche mostri militari, ma quello che conta è che in Afghanistan noi abbiamo investito anche il prestigio americano in una competizione che era, alla luce dell'evoluzione complessiva del sistema internazionale, una competizione completamente secondaria. Noi pensiamo alla guerra globale al terrore. La guerra globale al terrore è stata una pura e semplice follia strategica. Dieci anni di dissipazione di risorse, per di più costate decine se non centinaia di migliaia di esseri umani. Gli Stati Uniti guardano o rischiano di guardare l'Ucraina nello stesso modo, cioè come una grande diversione, come una grande dissipazione. E questo credo che sia un elemento molto importante da tenere in considerazione. Direi possiamo chiudere questo giro di dialogo con un'altra domanda a Marcello, prima di passare magari a una fase più dialogica, anche di domande su questi punti. Ti girerei un po' la stessa domanda, nel senso che, come diceva il professore, quello che sembra veramente carente, mancante, è poi, come dire, una proposta anche politica alternativa. Ci si sorprende poi, per esempio, a me sorprende tanto la mancanza di, come dire, una proposta anche culturale, per esempio la pace. Mancano anche scrittori intellettuali, fino, non lo so, penso al Vietnam. Oggi essere a favore della pace veramente ti devi giustificare, ci si doveva giustificare per aver fatto una manifestazione per la pace. Qualcosa di incredibile. Quindi, anche da un punto di vista economico, stiamo assistendo comunque a una politica economica, poi non è il mio campo, però che io faccio fatica a capire, no? C'è l'aumento dei tassi. Invece, quale può essere una, a tuo avviso, so che è una domanda difficile. Una politica economica per la pace? Una politica economica per la pace, in generale, parlando veramente molto in generale, è una politica economica che non esporta la crisi, non esporta la crisi all'estero. Per esportare la crisi ci sono diversi modi, sostanzialmente se vogliamo pensare all'economia internazionale, un modo tipico di esportare la crisi e far sì che attraverso la compressione della domanda interna siano gli altri paesi a sostenere la domanda della propria produzione. Cosa voglio dire? Io creo una depressione nell'economia domestica e mi affido alla domanda estera per poter produrre e far profitti, mettiamola così. Allora perché questo è un metodo per esportare la crisi? Perché chi vuole comprare le merci del paese esportatore, sto pensando ad esempio alla Germania, in Europa, ma se vogliamo anche la Cina in questo caso, si ritrova prima o poi, anzi già proprio per definizione ad accumulare debito estero, cioè un importatore netto è un importatore che accumula debito estero. Allora poi quando il debito estero cresce cosa devi fare? Devi provare a tirar la cinghia tipicamente, quindi questa politica di compressione della domanda che parte dal paese esportatore si trasmette al paese debitore, che tirerà la cinghia per ripianare la sua posizione di debitore. Allora come se ne esce? Una politica economica è una politica per la... E' una politica per quello che sta avvenendo anche con l'aumento dei tassi? Allora con l'aumento dei tassi, l'aumento dei tassi è anche una questione anche tutta interna alle varie economie, però sì, cioè l'aumento dei tassi è una politica che secondo me è sbagliatissima, almeno in Europa, poi sulla... Gli Stati Uniti hanno un'inflazione che ha una natura un po' più mista rispetto a quella che abbiamo noi. Noi abbiamo un'inflazione soprattutto da costi e siamo... Viviamo in una situazione di equilibrio economico generale di bassa domanda e alta disoccupazione. Come fai a comprimere la domanda in questo contesto? Cioè noi pensiamo all'Italia, veniamo da un quindicennio in cui abbiamo perso il 25% della capacità produttiva che avevamo nel 2007, abbiamo tassi di disoccupazione ormai strutturali che vengono usati, si dice, per controllare i prezzi, poi i prezzi si alzano lo stesso nonostante la disoccupazione. Perché? E beh, perché a causa di questa guerra e di tutto l'effetto domino che si è trascinata, ovviamente le risorse naturali sono molto più care. Quindi come si fa a reagire di fronte a questa spinta dei prezzi dal basso, cioè dal lato dei costi? Secondo me lì una politica sensata doveva essere esattamente l'opposto di quella che abbiamo fatto. Anziché contrarre la domanda, che è quello che fa l'inalzamento dei tassi di interesse, che peraltro genera anche instabilità sui mercati finanziari, bisognava tenere i tassi di interesse come erano. E si prevenivano magari i terremoti che stiamo vedendo, Silicon Valley, eccetera. E almeno in Europa ridurre tutto ciò che fa aumentare i prezzi, che è nel nostro potere ridurre. E cosa che fa aumentare i prezzi che è nel nostro potere ridurre? Per esempio l'imposta sul valore aggiunto, che è stata aumentata nel 2012 da Mario Monti in occasione dell'inaugurazione di questa grande stagione di politiche d'austerità, e lui ha aumentato l'IVA. Allora perché non la riduciamo l'IVA? L'IVA è una tassa inflazionistica, è una tassa inflazionistica e regressiva, cioè pesa di più sulle fasce sociali più povere. Allora una politica per la pace, secondo me, è una politica per la piena occupazione e per la più equa distribuzione dei redditi. Se io riduco l'IVA, non danneggio l'occupazione, semmai la miglioro. Non danneggio la domanda, semmai la faccio aumentare. Favorisco le fasce sociali più deboli e contrasto l'aumento dei prezzi. Cioè faccio una politica anticiclica, se c'è una spinta verso l'alto dei prezzi che impoverisce il potere d'acquisto delle famiglie in generale, delle imprese pure. E cosa faccio? Faccio l'operazione opposta, cioè tolgo l'IVA in modo da restituire il potere d'acquisto a chi l'ha perso. Per me questa è la politica corretta. Ora qual è il problema? Che questo è un tabù, cioè ridurre le tasse. Accidenti. Semmai lo dice più una... A destra lo dicono ogni tanto, però ridurre le tasse per loro vuol dire tagliare gli ospedali, tagliare... Io non dico questo, io dico ridurre le tasse e lasciare il livello della spesa così com'è, anzi aumentarlo pure perché abbiamo pochi ospedali. Come si è visto in pandemia qui a Milano è stata, non solo, è stata una catastrofe proprio per l'assenza dei medici di base e di tutto un presidio sanitario. Ora la spesa sanitaria deve essere aumentata, la spesa sociale per l'istruzione deve essere aumentata e contemporaneamente dobbiamo togliere le tasse. Questo è un tabù. Perché? Perché questo richiede una differenza tra spese e tasse maggiore, cioè richiede più disavanzo da parte del governo. Ma il disavanzo da parte del governo non dovrebbe essere un problema se non si interponesse in mezzo una banca centrale che invece tiene i cordoni dell'emissione di moneta ben stretti. E la banca centrale non è più un'autorità italiana, è un'autorità per noi straniera, no? Su cui noi sediamo nel borde della banca centrale ma decidiamo ben poco. Decidiamo ben poco in Europa e decidiamo ben poco nella banca centrale, no? Quindi noi praticamente il nostro governo non può permettersi una politica di questo tipo, eh? Poi ci sono altre proposte per far sì che questa politica possa essere realizzata. La moneta fiscale, non voglio entrare nel dettaglio, però è una proposta che circola in Italia e che però anche quella non ha diritto di cittadinanza al momento perché non è ben vista per ragioni diverse ma sostanzialmente è ancora, secondo me, ancora vista come un tabù più o meno da opposizioni, partiti di governo e tutto quanto. Quindi secondo me le politiche per la piena occupazione, per l'equa distribuzione dei redditi sono politiche per la pace in generale. Quindi proprio come stella polare su cui orientarsi, secondo me questa è la linea da seguire. Le politiche restrittive a cui stiamo assistendo sono all'esatto opposto. Grazie Marcello. Volevo dire questa cosa, diciamo, per chiudere questo giro, che è anche un po' il senso poi del mio intervento sulla rivista. Io oggi ho avuto una funzione più, diciamo, da mediatore, però ecco, credo molto che sia importante oggi sia mantenere, come dire, una capacità anche di saper riflettere e comprendere i problemi, ovviamente gettando dei semi e degli spunti, però, come dire, la tendenza che stiamo vedendo, e questo è stato anche un po' negli anni della pandemia, quello, come dire, di avere veramente una sorta di campagna martellante che poi lentamente ci abitua, volenti o nolenti, ad una sorta di ripiegamento sia, per quanto riguarda la democrazia, cioè noi abbiamo accettato comunque delle misure impensabili fino a pochi anni prima, sia nei confronti della guerra. Quindi poi anche quello che tentavo di dire nell'articolo è che anche questo conflitto ci chiama, come dire, a delle domande fondamentali. Io rileggevo, per preparare l'incontro, il carteggio fra Freud e Einstein, che è interessante perché praticamente si scambiarono alcune lettere e Einstein dice, io comunque da fisico posso dire poco sulla guerra, e effettivamente, insomma, dice un po' delle banalità, no? In quelle due o tre pagine, dice sì, dobbiamo appellarci alle Nazioni Unite, ok? Freud, che era un uomo, diciamo, più, diciamo, attento anche alla natura complessa, un po' brutale dell'essere umano, dice una cosa semplice che però ci dobbiamo ricordare, cioè lui dice, ricordiamoci sempre che se noi poi andiamo a vedere la storia dell'umanità, la storia dell'umanità è una storia interrotta di guerre. Cosa voleva dire Freud? Cioè, dobbiamo sempre ricordarci che anche una certa immagine dell'essere umano, che c'è anche un po' in questo ordine liberale, c'è un essere umano, come dire, che basta muoversi per l'ordine internazionale, per la pace, per la cooperazione, comunque poi non fa i conti, come dire, anche con una realtà esistenziale, storica, delle persone, che è molto più complessa e molto più variegata. Quindi vorrei chiudere con anche questa frase della Montessori, che mi piace molto, cioè, tutti parlano di pace, dice Montessori, ma nessuno educa la pace, nessuno educa la cooperazione. E questo mi sembra un punto, secondo me, importante da ricordare, cioè, che è anche un po' il senso di questi eventi, di questi incontri. Cioè, come si può educare, educarci alla pace, o comunque anche a un discorso, a degli eventi, a delle situazioni come queste, in cui ricordarci, come diceva il professore, ma noi anche politicamente dove vogliamo andare? Cioè, noi vogliamo andare verso un ordine internazionale di blocchi contrapposti, orwelliano, in cui diventa normale parlare di armi all'uranio impoverito, come sto sentendo in questi giorni? Cioè, no, siccome sono state usate su altri scenari di guerra, allora è normale, usiamole per uccidere altri esseri umani. personaggi che, come dire, da un lato sono liberali, umanitari, dall'altro stanno dimostrando una brutalità sconcertante. Quindi ecco, volevo chiudere anche, diciamo, con un'ottica forse che può dare una prospettiva più ampia, cioè, come dire, quali sono i principi che ci muovono? Qual è l'entusiasmo, il coraggio, anche per le generazioni più giovani? Per cosa vogliamo combattere? Ecco, e quindi credo che questo sia un buon spunto. Quindi ora abbiamo, direi, una ventina di minuti per delle domande. Vi pregherei, ecco, nelle domande, come dire, di essere concisi e brevi, di andare al punto. E prego. Non so col microfono... Eh, sì, sì, si può anche, magari, se lo facciamo, o se no, comunque non è l'entusiasmo. Per cui devo cercare... Però forse è meglio se lo do io, se tu risponderai alle domande. C'è già una domanda. No, adesso... Sì, poi ce lo passiamo. Allora, dovrò essere... ci sarebbero tantissime questioni, dovrò essere brevissimo. Una delle interrogativi che mi sto ponendo in questo momento, e in estrema sintesi, è la stoltezza, cecità, incapacità e mancanza di lungimiranza delle classi dirigenti europee. Questo è un elemento, tra l'altro anche Lavrov ne parla spesso, ma non solo lui, eccetera. Io non voglio parlare di Russia, di cose, cioè parlo di questo problema. A mio parere sta emergendo una incapacità straordinaria nelle capacità. Cioè, c'è una selezione al contrario. Cioè, noi ci siamo tanto vergognati di Di Maio e del fatto che andassi in giro, no? Nei ricevimenti a assaggiare i pasticcini. Direi una fotografia interessante del tipo di... I suoi viaggi all'estero. Il problema è che, per esempio, la Barbok sembra la sua versione femminile. Sembrano... C'è un problema anche, Scholz sembra uno che non si capisce, cioè, travolto dal vento. Cosa sta facendo? Cosa sta facendo? Allora, voglio dire, Macron, lo sappiamo. Ma poi questa corsa unitaria, questo entusiasmo a bruciarsi i ponti alle spalle. Questo è stato impressionante. Non ce n'è anche stato qualche mese. E poi abbiamo il nostro caso. Il nostro caso specifico della nostra Presidente del Consiglio, che fino a due anni fa, tre anni fa, quattro anni fa, sembrava una lucida interprete della problematica est-ovest del momento, e adesso sembra completamente ribaltata. Anzi, sembra una delle più viscerali. Con un entusiasmo sorprendente. Allora, qual è la causa di questo? Cioè, è evidente che le classi dirigenti occidentali da lungo tempo, dell'Europa occidentale da lungo tempo erano subalterne. Gli italiani poi in particolare, perché il fatto di aver concesso la distruzione della Libia è stato straordinario, un autolesionismo straordinario. Io vorrei ricordare anche che sull'Afghanistan noi siamo andati, noi ci siamo stati, abbiamo speso, credo, circa 800 milioni di euro all'anno, che per una quindicina o ventina d'anni fanno parecchi miliardi di euro. Abbiamo speso parecchi miliardi di euro per un progetto assolutamente demenziale, oltre a tutti ci sono stati parecchi morti, come anche in Iraq. Allora, voglio dire, qual è la cosa? È semplicemente subalternità culturale. È forme di ricatto? La Merkel, il cellulare della Merkel che veniva intercettato, che allora sono tutti sotto ricatto? Questo è un problema, perché le tecnologie moderne concedono questa cosa. È un problema di capio al collo, perché lei prima parlava del fatto che la Banca Centrale Europea tiene i cordoni della borsa. Io direi che tiene l'altro capio. Noi abbiamo un capio al collo, non solo noi, anche altri. Abbiamo un capio al collo e ogni tanto c'è una tiratina del capio al collo, da qualche no, tenuto dalle cose. Allora, quali sono? Forse è un discorso più che di geopolitica o di economia, è un discorso che io mi pongo di cultura politica, non so come dire. Qual è, che cosa in venti e passa paese, adesso, ha determinato questo tracollo di... Cioè, è semplicemente perché è passato lo slogan della sovranità nazionale, la sovranità è una cosa, eccetera, perché poi tutti... Cioè, è solo perché sono passati dei modelli culturali. Che cosa è successo per cui soltanto l'Orban, Orban, che si erge, il suo ministro degli esteri si erge e fa dei ragionamenti, no? Il vituperato Orban, di cui poi la Meloni e altri erano alleati, fino a... sembravano alleati. Allora, che cosa è successo? È perché nessuno di loro ha un attimo di coraggio nel leggermente distaccarci dalla narrazione, costruirsi, quello che un politico dovrebbe sempre fare, una possibilità, una retromarcia, un ponte di salvezza, una via. Questo è l'interrogativo che vi pongo, perché io non so dare risposta. Prego. Allora, risponderò molto rapidamente per lasciare spazio ad altre domande. In realtà, credo che la sua domanda sia molto opportuna, ma sia una domanda alla quale è impossibile rispondere. Questo è un dato macroscopico. Noi viviamo in un contesto storico che ci espone, a me non piace questo aggettivo, ma a sfide epocali, perché noi ci troviamo davvero in un contesto storico di questo tipo e ad affrontare queste sfide epocali ci sono classi dirigenti di un livello bassissimo. Questo vale per i paesi europei dell'Unione, questo vale per il Regno Unito, che ci ha dato negli ultimi mesi uno spettacolo sconcertante, questo vale per gli Stati Uniti, questo vale per tutti, e questo è naturalmente un ulteriore motivo di preoccupazione. Nel caso dell'Europa credo che si sia aggiunto almeno un elemento, e poi un ulteriore elemento nel caso italiano. Questa guerra è stata impiegata dagli Stati Uniti, che non significa che gli Stati Uniti siano stati i colpevoli della guerra, ma questa guerra è stata sicuramente impiegata dagli Stati Uniti come un'occasione per richiamare all'ordine i paesi europei. Joe Biden l'ha fatto oltretutto anche dal punto di vista discorsivo, varando questa contrapposizione tra democrazia e autocrazia, ma questo è stato un richiamo all'ordine anche molto duro, e molto duro in modo particolare nei confronti di due paesi che erano visti dagli Stati Uniti come degli alleati opportunisti, e cioè la Germania e l'Italia. Paesi che si permettevano di essere alleati degli Stati Uniti, ma contemporaneamente cercavano rapporti sempre più stretti anche con la Federazione Russa e la Cina. Su questo c'è stato un intervento durissimo. E qui arriviamo al caso italiano. Io ho la sensazione che per i partiti italiani, per certi partiti italiani in modo particolare, ci sia una vera e propria ossessione della normalità. E nel nostro contesto internazionale c'è una sola agenzia che distribuisce certificate di normalità e del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Io penso che per Giorgia Meloni la guerra in Ucraina sia più o meno la stessa cosa che è stata la guerra in Kosovo per Massimo D'Alema. È un'occasione per dimostrarsi normali agli occhi degli altri, in modo particolare all'agenzia che distribuisce i certificati. Sì, mi sembra, io non ho granché da aggiungere, trovo assolutamente lucidissime le considerazioni appena sentite. Devo dire, forse se posso puntualizzare una cosa, c'è stato un richiamo all'ordine degli Stati Uniti rivolto a tutti i paesi dell'Europa, diciamo ex Europa dell'Ovest, soprattutto perché non è stato difficilissimo richiamare all'ordine la Polonia per dire che loro sono anti-russi per definizione da sempre, quindi figuriamoci, loro sono diventati i veri leader adesso, cioè i portavoce dell'Europa sono loro. C'è una differenza tra Italia e Germania, questa è la puntualizzazione su cui vorrei concentrare l'attenzione, cioè la Germania ha avuto qualcosa in cambio, cioè non può più importare il gas a basso costo dalla Russia, gli è stato pure sabotato quel canale, ora non voglio lanciare accuse e finire in tribunale, perché nessuno sa chi può essere mai stato ad avere sabotato quel Nord Stream, ok? Però sta di fatto che ormai la via per importare gas e quindi anche produrre a basso costo in competizione con la produzione statunitense è tagliata, ok? Quindi la Germania è meno competitiva, però ha avuto qualcosa in cambio, cioè si può armare di più, cioè ha un peso politico, anche interno all'Europa e anche su scala nazionale, poi confermami se sto dicendo delle inesattezze, però mi sembra che il peso politico della Germania come potenza militare sia un po' più corposo di quello che era prima. L'Italia non ha avuto nulla in cambio, cioè l'Italia è un paese ormai in via di declino, ormai conclamato, sia all'interno delle varie equilibri europei, e quindi sostanzialmente conta sempre meno, lo si è visto in Libia quanto conta l'Italia, lo si vede perché da mille cose, ultimamente hanno appena votato delle cose in Europa sulla produzione di macchine, esatto, il cambio delle macchine nel 2035, così chiaramente lì si è vista ancora una volta la debolezza dell'Italia in queste trattative, che era partita lancia in resta con dire no, noi difendiamo una certa posizione, invece non sono riusciti a tenerla. Stiamo accettando il MES, Stiamo accettando il MES, stiamo, sì, io trovo assolutamente, trovo assolutamente giusto dire che noi siamo a caccia di legittimità internazionale, quella che lui diceva normalità, vogliamo essere legittimati, per essere legittimati dobbiamo essere assolutamente obbedienti, quindi se qualcuno ci tira da una parte noi dobbiamo dire sì e dobbiamo anche dimostrarci entusiasti, così è quello che sta succedendo. Quindi in cambio noi non abbiamo nulla, la Germania credo che guadagni almeno questo riassestamento da ruolo di perdente della seconda guerra mondiale smilitarizzato a qualcosa di un po' più, diciamo così, importante. Scusami, il microfono così... Non si può, non si può chiedere, diciamo di fronte a quello che c'è stato, diciamo, chiesto di aderire a questa, diciamo, guerra con tutte le spese, cioè, diciamo, per spirito almeno di, 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 diciamo, di, di non so, di avere un minimo di, 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 che ne so come chiamarlo, insomma, chiedere qualcosa in cambio, insomma, cioè, qualcosa si poteva chiedere in cambio, come diceva lei, scusi, voi mi chiedete tutta questa roba, dare armi, essere disponibili, abbracciare, zelesche, tutte queste cose qui, e cosa posso avere? Cioè, era una minima cosa, perché non lo potevamo fare, questo, aprire la bocca per fare questa richiesta, si poteva fare, nonostante, diciamo, la nostra posizione di, 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 di gregarie, di colonia statunitense, tutte queste cose, cioè, io, questo è che mi chiedevo, dico, va bene tutto questo, ma almeno chiedere, ma a me cosa me ne viene, cosa mi date in cambio? Questa è la cosa, poi, secondo me, dovremmo andare lì, tutti, un po' la, a Roma, e rompere tutto quanto, insomma, cioè, perché basta, insomma, non se ne può più, cioè, no, basta, insomma, cioè, io non, non, non se può sostenere questa cosa qui, di essere accondiscendente sempre, no, no, non ce la faccio più, insomma, cioè, è che è il goico bellico, cioè, qui basta, insomma, basta, non se ne può più, insomma. Come diceva Leonardo Sciascia, la vera guerra è guerra civile, quella è la vera guerra, la guerra di Spagna, ai suoi tempi. credo che il punto, poi qua, il professor Colombo, tra dire meglio di me, però, credo che ci sia un sistema di alleanze, quindi, anche, come dire, il dato di fatto è che, come dire, le classi dirigenti, come dire, sono dentro il sistema della Nato, e quindi, la contropartita è quella di essere, come dire, un po' di tino, insomma, la questione degli europei, a me sembra che alcuni stati europei facciano molto di più degli Stati Uniti, sono molto, ma molto più impegnati. Io vedo, specialmente nella Finlandia, una parte della Germania, nella Boerbock, i paesi baltici, vedo del revancismo, ricordiamo che la Finlandia, non ha nessunissima ragione, per entrare nella Nato, di nessun tipo, ma vuole entrare nella Nato, e il comportamento, diciamo, dei governanti, è estremamente deciso, nel sostenere l'Ucraina. Così, mi sembra di vedere, chiedo una vostra, eventualmente, parere, mi sembra di vedere qualcosa di più. Noi siamo un po' fuori, abbiamo perso la guerra, siamo rovinati già da mille anni, comunque, però, ci sono, io vedo, del revancismo, per alcuni paesi, erano, diciamo, un po' soffocati, si può anche dire, dall'Unione Sovietica, Polonia e stati baltici, e altri, avevano perso la guerra, ricordiamo, la Finlandia, era alleata del Führer, quindi, era stata bombardata da Stalin, nel 35, quindi, ha perso la Careglia, vedo anche, questo aspetto, di revancismo, grazie. Allora, non so, in realtà, se si arrivi addirittura, al revancismo, sicuramente, per usare un eufemismo, ci sono differenti sensibilità, allora, ci sono paesi, per mille ragioni, molto fortemente ostili, alla Federazione Russa, anche molto prima, di quello che è avvenuto, un anno fa, il caso della Polonia, è il caso più eclatante, ci sono anche paesi, che hanno meno ragioni storiche, di essere così russofobi, ma sono russofobi, tanto quanto la Polonia, come il Regno Unito, il Regno Unito, è la superpotenza, della russofobia, in questo momento, in Europa, oltre, oltre alla Polonia, non so, se si tratti, di un vero, revancismo, quello che, mi sembra, che si stia, già profilando, come una possibile differenza, all'interno dell'Europa, è la differenza, che corre tra i paesi, che danno la sensazione, di non volere, neppure mettere in conto, una ripresa di relazioni, con la Federazione Russa, cioè paesi, che ritengono, che la Russia vada, fondamentalmente, annientata politicamente, e altri paesi, penso in questo caso, alla Francia di Macron, Macron non mi è simpaticissimo, però, credo che, nel rapporto, con questa guerra, sia, tra i leader europei, uno dei pochi, forse l'unico, che periodicamente, solleva il problema, cioè, solleva il problema, che accennavo prima, cioè, fino a che punto vogliamo andare, e soprattutto, solleva un problema, che politicamente, a me sembra, politicamente e diplomaticamente, un problema centrale, e cioè, a un certo punto, le relazioni con la Federazione Russa, dovranno essere riprese, perché noi non ci possiamo, immaginare, un ordine internazionale, europeo, che escluda la Federazione Russa, questa sarebbe una pura e semplice follia, e quindi, la differenza, che vedo, anche senza, spendere addirittura, la parola revancismo, ecco, ho la sensazione, che alcuni paesi, questo problema, non se lo pongono proprio, cioè, che si immaginano, fondamentalmente, un mondo senza Russia, o con una Russia, o con una Russia, totalmente marginalizzata, e incapace di esprimersi, io, ritengo che su questo, le differenze, che ci sono sempre state, tra i paesi europei, negli ultimi decenni, nei rapporti con la Federazione Russa, riemergeranno molto presto, perché, i paesi europei, non hanno, la stessa idea, di, del dopoguerra, e quando si fa una guerra, la prima cosa, a cui si deve pensare, è il dopoguerra, e, io penso che l'immagine, del dopoguerra in Polonia, e l'immagine del dopoguerra in Francia, non sia lo stesso. Volevo chiedere, ma, l'aspetto economico, è l'unica, causa scatenante, della guerra in Ucraina, o magari, questa globalizzazione, un po' forzata, su certi aspetti, magari, può aver dato, qualche, spinta in più, forse, a questa guerra, esempio, magari, andando in casa di Putin, su certi aspetti, magari, a voler forzare, determinate cose, questo, volevo chiedere, una domanda, un po' più terra a terra, si esatto, andare in casa di Putin, ecco esatto, sugli aspetti culturali, e non solo quelli economici, ma, allora, io, dunque, io non, cosa posso dire, da economista, vedo chiari, vedo, vedo chiare, cioè, diciamo così, le dinamiche economiche, forse non sono la persona più indicata per rispondere sugli aspetti più geopolitici o culturali che penso che abbiano un peso, perché parliamo magari di cose anche un po' retro, ma secondo me, forse, oggigiorno, ci sono delle spinte, anche magari a livello televisivo, anche nella nostra televisione, che non tutti concordano, e non tutti sposano, cioè, questo voglio dire, no? No, certo, certo, ma diciamo che, dal punto di vista, sì, allora, tendenzialmente, io sarei un po' avverso a spiegare la guerra, con una questione di caratteri nazionali, ecco, questo non mi convince tanto, come, cioè, il fatto che Putin, rappresenti una nazione, che abbia certe fobie, che ha, ce le hanno le loro fobie, per esempio, la questione dell'accerchiamento, però, sono anche delle ragioni, non sono soltanto delle fobie, cioè, ci sono delle ragioni strategiche, il fatto di poter, che passiamo da una situazione pre-crollo del muro di Berlino, in cui Washington e Mosca sono a debita distanza, a un'altra, a un ventennio, dalla caduta del muro di Berlino, in cui l'Alleanza Atlantica può mettere le sue armi nucleari, i suoi missili nucleari, a cinque minuti da Mosca, secondo me, questa non è proprio una fobia, cioè, questa, dal punto di vista geopolitico, è un cambiamento allarmante, e quindi, secondo me, secondo me, questo in parte spiega, per esempio, il comportamento di Putin, e non è una ragione strettamente economica, no? E non è neanche una ragione, così, genericamente culturale, di carattere, o così, è proprio, è proprio un cambiamento, degli assetti, degli equilibri, e della, e proprio anche della, della distribuzione delle armi, se vogliamo, tra alleati, e tra blocchi, completamente diverso, da quello che c'era, in una situazione, più tesa, ma più equilibrata, come era quella, prima del, del crollo del, del muro di Berlino, quindi, secondo me, queste sono tutte ragioni, non strettamente economiche, che pesano, ecco, se vogliamo, però, ecco. Vi posso, posso aggiungere, una breve considerazione, allora, mi spiace fare questa, premessa, ma è doveroso, visto il clima culturale, questa premessa, non è fatta, per giustificare, ma è fatta, per interpretare, quando noi, vediamo, un soggetto, uno Stato, prendere una decisione, come quella, che ha preso, la federazione russa, noi ci dobbiamo, interrogare, su che cosa, abbia indotto, abbia potuto indurre, la federazione russa, a prendere questa decisione, questa decisione, non era inevitabile, ma questa decisione, credo, che sia, tra le altre cose, il prodotto, del modo, in cui la Russia, ha percepito, non come si continua a dire, l'allargamento della Nato, ma un determinato, allargamento della Nato, perché, quando noi parliamo, di allargamento della Nato, noi, usiamo un'espressione, nella quale, è già compresa, una menzogna storica, non c'è stato, un allargamento della Nato, ci sono stati, tanti, diversi, allargamenti della Nato, e i diversi allargamenti della Nato, hanno avuto ragioni, molto diverse tra loro, e io credo anche, giustificazioni, molto diverse tra di loro, mi limito a due considerazioni, la prima, quando si trattò di decidere, se allargare la Nato, e fino a dove allargarla, le diplomazie degli anni, 90, che tra l'altro, erano diplomazie, per tornare alla sua domanda, di un livello culturale, infinitamente superiore, a quello attuale, se pensiamo ai leader, tedeschi, francesi, britannici, dell'epoca, e le confrontiamo con quelli di oggi, c'è da piangere, allora, l'allargamento, venne immediatamente percepito, come da un lato, doveroso, ma dall'altro, pericoloso, ci fu un enorme dibattito, negli anni 90, che nasciva dalla consapevolezza, che l'allargamento, avesse dentro di sé, questo rischio, cioè il rischio di marginalizzare, la federazione russa, e di renderla aggressiva, io ricordo tanti articoli, su riviste scientifiche, che parlavano, del rischio di una Russia, vai mariana, cioè non facciamo l'errore, che si è fatto con la Germania, nel 1919, non umiliamo, perché un paese umiliato, alla prima occasione, cerca per l'appunto, di rovesciare il tavolo, ma non si fece negli anni 90, perché l'allargamento della Nato, negli anni 90, fu un allargamento molto cauto, fu estremamente cauto, e ogni allargamento, fu accompagnato, tra l'altro, da una contrassicurazione, offerta alla federazione russa, quello che è avvenuto, negli ultimi anni, è un salto di qualità, allora, io non posso tollerare, che qualcuno, non capisca, che da quando, nel 2008, è stata evocata, la possibilità, di un ingresso dell'Ucraina, nella Nato, si sia fatto, un salto di qualità, e su questo, hanno mentito, sia i russi, che noi, i russi, Vladimir Putin, in modo particolare, mente, io credo, quando dice, l'allargamento della Nato, all'Ucraina, sarebbe, una minaccia immediata, alla nostra sicurezza, in termini militari, non è sufficiente, non è necessario, spostare, di 400 km, la Nato, per, per, minacciare, qualche paese, dal punto di vista militare, ma c'era una minaccia, di carattere identitario, ecco, di carattere culturale, l'ingresso dell'Ucraina, nella Nato, sarebbe stata, un colpo, micidiale, alla reputazione, e all'identità, della federazione russa, allora, introdurre la Nato, scusate, l'Ucraina, nella Nato, avrebbe significato, anche dal punto di vista cerimoniale, dire, la Russia, non è più, una grande potenza, e credo che, e di fronte a questo, a questo, ulteriore, colpo, alla propria, autorappresentazione, che la Russia ha reagito, ha reagito in modo, ottuso, molto probabilmente, sicuramente con una serie, incredibile di errori, non sapendo, tra l'altro, graduare la risposta, ma credo che, questo sia stata, la minaccia avvertita, dalla federazione russa, non tanto una minaccia, alla propria sicurezza, nel senso forte, della parola, ma una minaccia, alla propria sicurezza, nel senso della propria identità. Prego, però la propria identità, scusi, la propria identità, cioè, il decodenzamento, certo, 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 non sotto altri, no, no, sotto questo aspetto, semplicemente, cioè un paese che ha già subito, una deprivazione relativa, catastrofica, perché è un paese che, oggi, e anche prima, della guerra in Ucraina, conta infinitamente meno, di quanto avesse contato, fino a 30 anni fa, quindi un paese che aveva, cercato di riadattarsi, a questo nuovo ruolo, cercando di conservare, qualche cosa, della propria, io continuo, lo dicevo prima, della guerra, Vladimir Putin, ha condotto, una politica estera, illusionistica, una politica estera, che è riuscita a far credere, agli altri, e ai cittadini russi, che la Russia fosse ancora, una grande potenza, ma l'illusionismo nella politica, conta tanto, e andare a, andare a strappare la maschera, è un atto, politicamente, molto forte, del quale si devono misurare, le conseguenze. Mi riallaccio, posso? C'è forse una, però va bene, tu parliamo. No, avevo, visto prima, no, volevo dire, però effettivamente, la Russia ha delle materie prime, che in Occidente non abbiamo, e tante, questo chiuso, ma l'altra domanda, la domanda che vorrei fare, è, quanto c'entra, la, quanto c'entra, la finanziarizzazione, dell'economia, in questo, in questo sconvolgimento globale, perché, cioè, sono state create bolle, speculative enormi, l'immissione di qualità enorme, come avevi detto tu anche prima, no? Quanto c'entra invece questo, sul fatto che il capitalismo, finanziarizzato, stia per fallire, insomma, stia per esplodere, e quindi ristabilire, dei rapporti di forza, di questo tipo, per salvare, questa bolla, che si è venuta a creare, perché, avrà degli effetti macroscopici, io penso, sull'economia globale. Ma non ho capito, se intendi, se la guerra è funzionale, a ristabilire l'ordine? a ristabilire l'ordine. Ah, ok. Anche questo, cioè, fate delle domande, veramente. Facciamo lavorare. Cioè, ma come si fa a rispondere a questo? No, vabbè, se la guerra, se la guerra, sì, la guerra, allora, io posso dire, la guerra può essere utile, a richiamare all'ordine, gli stati con cui, gli Stati Uniti vogliono intrattenere, un rapporto stretto, no? No, per esempio, tipicamente, gli stati europei, richiamati all'ordine dagli Stati Uniti, potevamo chiedere qualcosa in cambio, chi lo sa, no? Di fatto che siamo richiamati all'ordine, quindi, c'è stato un atto di autorità, all'atto pratico, e la guerra è stata l'occasione per richiamarci all'ordine, quindi, questo sì. se è l'occasione per salvare l'economia finanziarizzata dal crollo, è tutto da vedere, cioè nel senso, intanto da vedere se crollerà, perché non è che io sia proprio dell'idea che ci stiamo avviando verso la catastrofe, di solito ci si avvia verso qualcosa di intermedio tra la catastrofe e la pace, cioè ci stiamo avviando, quello che si può dire è che ci stiamo avviando verso un depotenziamento della democrazia in generale, ci siamo già avviati verso un depotenziamento, cioè noi siamo una democrazia a bassa intensità, e lo siamo ormai da un quarantennio a questa parte, in cui chi comanda non sono poteri trasparenti, eletti direttamente dal popolo e sono appunto i grandi capitali che fanno il bel cattivo tempo, possono decidere se uno Stato può spendere oppure no, perché se decidono che non può spendere portano via i capitali, la banca centrale si gira dall'altro lato, quindi chiaramente siamo alla mercè di forze che non sono sotto il nostro controllo, quindi questo è quello che vedo, il crollo non lo vedo, cioè è vero, stiamo vedendo che le banche falliscono, ma abbiamo visto anche nel 2007-2008 che le banche sono fallite, fallita le Man Brothers, ha sconvolto il mondo intero, ha generato un sisma finanziario di cui ancora oggi paghiamo le conseguenze, però non è che il capitalismo è crollato e nemmeno il capitalismo finanziarizzato è meno finanziarizzato oggi di quanto non lo sia prima, cioè è altrettanto finanziarizzato, quindi non lo so, secondo me il capitalismo ha la caratteristica della resilienza e anzi questo fatto ci dovrebbe far riflettere, perché, io la faccio sempre lunga poi quando comincio a rispondere, però questo è importante, perché quando noi ci diciamo facciamo una politica, non lo so, per la equità, una politica eterodossa, io prima parlavo di abbattere l'iva, cancelliamo l'iva, ma quando mai è proponibile, perché non possiamo farlo? Perché poi mandiamo in crisi i mercati, ecco per esempio, il punto è che i mercati non vanno mai in crisi, si adattano sempre, e così anche con i crolli delle banche, alla fine il mercato, cioè nel senso del grande capitale, un modo per adattarsi lo trova sempre, quindi io sarei un po' cauto nel dire che ci stiamo avviando verso il crollo, invece sono convinto che ci avviamo verso un declino della democrazia. Sì, proprio per quello, ma leggermente. Sì, volevo fare alcune, dare qualche testimonianza propedeutica alla domanda che poi farò sul finire del mio intervento, ossia circa l'economia della pace in Portogallo, qualche giorno fa, su 44 beni comuni, frutta, verdura, carne, farine, e il governo socialista di Andrea Costa ha azzerato l'IVA. Questo va nella direzione dell'economia e della pace. Andrea Costa, che voglio ricordare, è uno dei possibili candidati alla guida dell'Unione Europea, che era stata paventata, poi il suo presidente l'ha richiamato all'ordine, ha detto tu finisci il mandato e continui a fare la tua attività di politico nel nostro territorio. Quindi diciamo che una testimonianza valida verso questa direzione ce l'abbiamo dal Portogallo. Non so quanti altri paesi in Europa seguiranno questo esempio. Un'altra testimonianza che volevo dare poi sull'egemonia che è incontrovertibile degli Stati Uniti come contractor internazionale. Io lavoro per un'azienda multinazionale italiana. Su tutti i contratti stipulati, stiamo parlando di miliardi di euro per ciascun contratto, miliardi di dollari scusate, è tutto parametrato al dollaro. Per intenderci la valuta dollaro pesa il 90% di ciascuno di questi contratti. Ripeto, sono miliardi di euro solo per un'azienda multinazionale italiana. L'euro all'incirca varrà il 10% del totale valore d'ordine. Questo per dare ancora una testimonianza da questo punto di vista. Tutto ciò per dire ma l'Europa, il progetto dell'Unione Europea, quanto è osteggiato fin dalla sua nascita dagli Stati Uniti? E questo richiamo all'ordine da parte degli Stati Uniti a tutti i paesi coloni fondamentalmente dell'Unione Europea dà ancora conferma del fatto che non si riesce a smarcare, ad avere una propria identità che sia altra rispetto agli Stati Uniti e rispetto alla Russia, la C, Russia vabbè dal punto di vista del peso politico ed economico, alla Cina ormai emergente, come due blocchi che ormai si contrappongono. Le mosse della Cina hanno spinto, come abbiamo sentito, gli Stati Uniti forse magari a utilizzare questo espediente della guerra in Ucraina, la partecipazione attiva del figlio di Biden con le sue aziende in Ucraina, non so perché non venga mai ricordato così chiaramente, spiegherebbe forse anche tante cose, come spiegherebbe insomma tutte le dirigenze nella stragrande maggioranza eccettuate quelle che ho appena ricordato, il Portogallo di Andrea Costa, ad esempio quanto siano fondamentalmente succubi dei frontman degli Stati Uniti in terra europea, quindi quale può essere lo sviluppo dell'Unione Europea come fronte almeno autonomo e indipendente come voce altra dato che molti dei paesi europei siedono al tavolo del G8, si trovano al congresso dell'ONU, insomma posizioni alla stregua degli Stati Uniti come peso politico ed economico. allora direi che abbiamo 5 minuti in anni non posso fare l'ultima domanda io direi di raccogliere le ultime due domande credo di essere rapidi vabbè allora vabbè una è vabbè si no 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 chiaro si è parlato appunto di isolamento dalla federazione russa però cioè nel senso visto che alla fine quello che è parso è parso stia avvenendo cioè che praticamente lo scenario che su cui aveva lavorato Kissinger per 40 anni per scongiurarlo cioè il fatto che il numero 2 il numero 3 facendo stare chi sia il numero 2 il numero 3 se la Cina o la Russia si mettessero a fare comunella contro il numero 1 però alla fine adesso sembrerebbe che stia andando in questa direzione allora la domanda è l'incontrario cioè ma non è che invece dell'isolamento della federazione russa ci sarà l'isolamento diciamo dei paesi nato questa è la mia domanda no la mia è un'osservazione più con la domanda perché penso che vada dato una risposta a Alina perché altrimenti le questioni rimangono sospese io penso che è chiaro abbiamo capito tutti chi ha il bastone della parte del manico dobbiamo forse porci una domanda molto un pochino più pungente per noi visto che qua parecchi sono del movimento darsi pace sono tutti quanto noi siamo in grado di mettere in campo il coraggio quello prima che è stolina non cosa possiamo fare non quanto possiamo presentarci col cappello in mano dagli americani o da quelle altre persone o quanto noi siamo disposti di mettere in campo nel momento in cui noi decidiamo di mettere in campo una nostra linea posto che prima o poi essere in grado di scegliere la nostra linea politica penso noi abbiamo dimenticato alcune cose e in Italia qualcuno ci ha lasciato la pelle perché ci ha messo in campo il coraggio Aldomoro se non mi sbaglio forse qualcun altro ancora perfino Craxi l'ha pagata a un certo punto per aver deciso di dire di no agli Stati Uniti beh io credo che forse un movimento come il nostro deve essere in grado di a un certo punto di dire che noi intanto diciamo no a chi tiene in mano il bastone perché prima o poi noi abbastonate moriremo questo è chiaro e la seconda questione che magari può essere una domanda nel momento in cui noi diciamo no cosa può realmente accadere cioè una nazione di 65 milioni abitanti che dice no che è un porto sul Mediterraneo cosa può accadere io credo che forse dovremmo poi imparare a osservare l'imponderabile ho sentito tante belle riflessioni ma stiamo riflettendo su cose che a volte rischiano di essere un po' ovvie forse è in grado che se riusciamo a guardare un pochino un po' più in là perché è vero che c'è la Russia è vero che ci sono gli americani ma forse è vero che c'è anche l'Africa no e forse è vero che magari quello che potrebbe accadere in questo momento è ciò che noi non stiamo prevedendo io finisco la domanda ci sono passati due anni in cui è accaduto di tutto la gente sembra che quello che è accaduto è accaduto come è arrivato è finito io penso che sia un po' banale pensare che sono state poste alcune condizioni di natura culturale perché alcune cose finissero ripeto ancora il coraggio perché se oggi noi non riusciamo a coprire a finanziare la nostra capacità di azione soprattutto in ambito pubblico io ho fatto il sindaco per dieci anni quindi capisco bene quello che è accaduto forse perché abbiamo deciso qualche anno fa di privatizzare la Banca d'Italia e non essere più in grado di finanziare la nostra spesa pubblica quindi voglio capire quanto peserà il nostro coraggio se decidiamo di metterlo in campo molto brevemente risponderò a tre domande che in realtà sono domande le quali non si può rispondere brevemente quindi mi scuserete se la risposta sarà inevitabilmente a rozza sull'Europa con tutta franchezza sono abbastanza pessimista e sono pessimista non soltanto perché perché gli Stati Uniti ci hanno richiamato all'ordine ma perché se anche gli Stati Uniti non ci avessero richiamato all'ordine io credo che i paesi europei una politica coerente sia nei confronti della federazione russa sia nei confronti dell'Ucraina sia nei confronti del Mediterraneo sia nei confronti di qualunque altra cosa non sarebbero purtroppo in grado di produrla e anzi accenno soltanto brevemente credo che la guerra in Ucraina nonostante le cose che ci stiamo raccontando aumenterà ulteriormente le divisioni all'interno dell'Unione Europea quindi la guerra in Ucraina non avrà affatto l'effetto unificante che si continua a dire avrà un effetto ulteriormente disgregante quindi su questo sono molto pessimista così come sull'isolamento non credo in realtà che si possa parlare di un isolamento degli Stati Uniti e dell'Europa perché gli Stati Uniti e dell'Europa sono troppo forti per essere isolabili però una cosa importante è vera e va richiamata c'è una larghissima parte del mondo una larghissima parte del mondo soprattutto i paesi tra l'altro che stanno meglio cioè che stanno crescendo che è molto sensibile almeno a uno degli argomenti della cosiddetta propaganda russa e cinese e cioè il fatto che è arrivato il momento in cui l'Occidente non parla più a nome dell'intera comunità internazionale allora io sono convinto da anni che questa sarà una delle grandi questioni del ventunesimo secolo il ventunesimo secolo dovrà giocarsi tra le altre cose su grandi conflitti di legittimità che ruoteranno fondamentalmente su questa eredità storica e questo è il senso in cui ho parlato prima di momento epocale cioè noi viviamo in un contesto epocale perché per due tre secoli l'Europa e l'Occidente sono stati al centro del mondo oggi questa centralità è messa apertamente in discussione quindi ecco in questo senso credo che lei abbia ragione sul coraggio in realtà il coraggio non basta si può avere coraggio per fare qualcosa ma se non si ha questa volontà il coraggio serve a poco il coraggio serve per specchiarsi fondamentalmente a me sembra che in questo momento quello che manca in Italia e non soltanto in Italia non sia soltanto il coraggio probabilmente c'è anche il coraggio ma ci sia proprio la volontà basta pensare alla qualità del dibattito pubblico su questa guerra ma alla qualità del dibattito pubblico e della nostra informazione su tutto quello che avviene da diversi anni a questa parte non c'è dibattito pubblico non credo che ci sia purtroppo se non in ambienti molto marginali il senso dell'urgenza che lei pone evocando il coraggio non lo vedo non lo vedo per esempio che cosa abbiamo un paese che per il 60% non va votare io credo che la volontà di cambiare a questa no su questo su questo su questo si allora no 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 questo attenzione no questo questo allora che ci sia un per tornare a quello che è stato detto una crisi radicale della rappresentanza una crisi radicale della democrazia che tra l'altro non riguarda soltanto l'Italia ma riguarda anche tutti gli altri paesi questo è in dubbio il fatto è che quel 60% che non vota al quale tra l'altro io faccio del quale faccio parte e quel 60% quel 60% che non vota non ha una volontà unitaria io non so come diavolo la pensino tutti gli altri che non vanno a votare ma sospetto che non abbiano le mie stesse ragioni o quantomeno che non tutti abbiano le mie stesse ragioni quindi la mia sensazione è che questa sensibilità che sarebbe necessaria anche semplicemente a porsi delle domande ecco porsi la domanda la domanda di per esempio la domanda delle domande dal punto di vista della politica estera cioè quanto senso abbia ancora oggi un rapporto transatlantico come quello che abbiamo avuto con ottime ragioni nei decenni scorsi ma quello che aveva ragione nei decenni scorsi non necessariamente c'era oggi ecco questa domanda non è stata posta cioè se io penso esatto se io penso che questa domanda non è stata mai posta dal 1990 in poi questa è la misura davvero di una mancanza di 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 attenzione di sensibilità io credo anche di intelligenza che che è davvero desolante e sulla quale sono ancora ancora una volta pessimista mi spiace è una botta di entusiasmo non so se posso posso dire forse cioè forse posso dire qualche cosa non so se è di ottimista o pessimista però se noi guardiamo a quello che sta succedendo in altri paesi le proteste che sono in corso in Francia per la questione della riforma delle pensioni che ha ripreso un discorso che era già iniziato prima della pandemia addirittura quindi non è strettamente collegato con la guerra in Ucraina però è legato sicuramente all'inflazione che a sua volta è generata dalla guerra in Ucraina e anche in Inghilterra ci sono delle proteste e gli scioperi che non si erano visti per 40 anni in Italia non c'è niente allora secondo me secondo me bisognerebbe riflettere anche su questa diversa reazione noi abbiamo lo sappiamo abbiamo tollerato una riforma delle pensioni nel 2012 della Fornero che è mostruosamente più pesante di quella per cui stanno spaccando tutto in Francia oggi e noi l'abbiamo accettata senza fiatare in numero sì simboliche per dire ma no ma che brutto ecco io devo dire che per quanto il coraggio non sia l'unico ingrediente che ci serve però servirebbe c'è un po' di coraggio di protestare anche se non sappiamo bene dove con quale obiettivo preciso però almeno in Francia le leggi per chi protesta e chi fa di volte sono un po' diverse da quelle dell'Italia sono un po' più danno più concessioni chi protesta e chi parte la Francia beh però non è che non la rivoluzione francese è la custodia la più famosa non è che non li mazzolino da loro no ti mazzolino ti mazzolino a casa qua è diverso guarda che in galera ci finiscono pure che io sappia comunque ad ogni modo cioè questa diversa diversa vogliamo dire carattere nazionale visto o storico se vogliamo dire così cioè chiaramente la Francia ha una storia in cui la protesta porta risultati e l'Italia eravamo dei grandi movimentisti negli anni 70 si è perso tutto e siamo così ancora in una crisi permanente di volontà cioè secondo me queste cose sono anche un po' il sale della democrazia se c'è una crisi della democrazia questo può essere un modo per per rivitalizzarla in qualche modo quindi non so se questo appunto è un messaggio ottimista pessimista però è una diciamo spezzo una lancia a favore della richiesta di coraggio politico insomma questo è su questo io la condivido insomma e coraggio politico è anche quella questione del Portogallo devo dire che il Portogallo è una cosa diversa dall'Italia è un paese diverso dall'Italia è più diciamo che la sorveglianza europea nei confronti delle politiche economiche del Portogallo è molto meno restrittiva di quella che abbiamo noi perché noi siamo un paese più più grosso più importante no e il motivo per cui in passato sono state concesse politiche meno austere al Portogallo è proprio per evitare che si formasse un blocco Grecia-Italia Spagna-Portogallo quindi rilassiamo i cordoni per la Spagna e per il Portogallo in modo che così non si alleano con l'Italia a fare eventuali politiche ribelli no però questo vuol dire che ancora che degli spazi di manovra uno se li può provare a conquistare c'è un governo che vuole fare delle manovre che io ho chiamato politiche per la pace ma vabbè un po' retoricamente però manovre anti-inflazionistiche che non siano di compressione della domanda magari qualche margine di manovra ce l'ha noi abbiamo un po' questo complesso di volere essere accettati come normali e purtroppo non ce li diamo questi spazi però in teoria potremmo anche pretenderli anche questo fa parte del discorso del coraggio rispondendo il coraggio ma tutto chi dovremmo protestare decisamente no perché sembra una domanda chi è un economista perché il campo è quello il problema della democrazia se ci pensiamo cioè della democrazia a bassa intensità è che se volessimo se volessimo trovare la forza contro cui protestare dovremmo protestare contro i grandi capitali internazionali il grande sistema finanziario come si fa a protestare contro il sistema finanziario e cioè il punto è che non c'è una sede in cui rappresentare rappresentare certe istanze contro perché loro sono al di fuori della rappresentatività politica sono fuori cioè sono anche fuori dall'italia quindi chiaramente non è si riuniranno però voglio dire si 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 certo vabbè però lì non è una questione cioè non si può andare cioè una volta che uno va in Svizzera a protestare cosa è concluso cioè loro fanno non lo so si ritrovano a fare due chiacchiere lì cioè prendere delle decisioni anche importanti però poi alla fine è un'entità non non visibile in un certo senso quindi sì diciamo che anche per chiudere forse è anche un po' il senso comunque di questi eventi per cui ringrazio anche i nostri ospiti sono contento di questa serata mi è piaciuta ringrazio anche tutti voi di essere venuti di aver partecipato come dire con interesse con attenzione diciamo poi anche Gramscianamente ci sta sempre citare Gramsci costruire comunque un'egemonia alternativa anche culturale e comunque favorire questa circolazione di idee di pensiero che poi ci rende vivi attenti e sempre energici quindi vi ringrazio e alle prossime iniziative grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti